Uno star drop per te, data estrazione, giveaway, skin di Hank, Lu e 50.000 monete su squadbuster comp per fare coppe facili nella modalità 3 vs 3 con i potenziamenti Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul nostro canale Partiamo subito col botto perché abbiamo recuperato uno star drop casuale da regalarvi Non abbiamo idea da dove provenga ma dobbiamo ringraziare il nostro staffer Scotch The Got che ci ha passato il link e quindi vogliamo condividerlo con voi Come potete vedere dai messaggi io l'ho già riscattato perché mi sono sincerato dell'autenticità del link e quindi come potete vedere dal sistema hai ritirato il buono con successo Il link per ricevere lo star drop ve lo lasciamo direttamente in descrizione oppure potete andare comodamente su tutti i nostri social, premere nel link nella bio e lo trovate direttamente lì Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi queste chicche Ma ora parliamo del giveaway della skin di Hank e la skin di Lou e delle 50.000 monete su Squadbuster Se ci seguite come avrete visto nei video vi abbiamo spiegato come poter partecipare a questi regali che facciamo mensilmente Questo mese ne abbiamo veramente tanti perché sono tre Nel caso non l'aveste ancora fatto vi lasciamo in descrizione il video dove trovare tutto il regolamento per partecipare Se fate parte del nostro Discord probabilmente avrete già visto l'evento perché sarà venerdì 27 settembre intorno alle ore 15 Gli orari sono indicativi quindi potrebbe essere che partiamo qualche minuto prima oppure qualche minuto dopo Ma chiaramente se attivate le notifiche per le nostre live sicuramente potrete vederlo Prima però di parlare della comp che abbiamo trovato contro e vi volevamo segnalare Come sempre tutti i giorni andiamo a prenderci tutte le ricompense Partiamo dai 100 verdoni per passare chiaramente alle ricompense normali e quelle del pass Inoltre abbiamo anche shoppato l'offerta delle monete Che se non l'avete ancora fatto e potete recuperarla vi consigliamo di fare Se siete alla ricerca di maxarvi ovviamente l'account perché come probabilmente sapete Le monete sono la cosa più rara all'interno del gioco Di punti energia mediamente se ne hanno sempre a sufficienza Ma le monete per poter comprare equipaggiamenti, star power, overdrive e gadget ne mancano sempre tanti Abbiamo fatto un rapido conto e oggettivamente questo tipo di offerta rispetto al solito è indicativamente un per 10 Perché inizia con un per 2 sì però poi si moltiplica tutti i giorni E come dovreste sapere se seguite i nostri video quando le offerte sono per 10 e per 12 mediamente conviene prenderle Quindi ci andiamo a prendere le 1500 monete di oggi Prima di farvi vedere la comp che abbiamo trovato per potervi aiutare a fare coppe Ci facciamo una partita normale in 3 vs 3 per prendere i verdoni di oggi Selezioniamo Mo perché nonostante non abbia i potenziamenti è comunque un grado 8 Quindi mediamente le partite dovrebbero essere decisamente più facili E' curioso come questa partita ragazzi preannuncia quello che vi faremo vedere nella partita successiva Perché come potete vedere stiamo facendo dei potenziamenti Perciò sicuramente i nostri compagni di squadra hanno il potenziamento a livello 3 Perlomeno Barry ha il potenziamento a livello 3 Come state notando stiamo facendo dei potenziamenti gratuiti però adesso ci stanno attaccando Quindi bisogna comunque fare qualcosa Eh vediamo un po' se riusciamo a tirare fuori qualche situazione Ok ci hanno fatto fuori tutti e siamo arrivati secondi Quindi va benissimo per i verdoni ma malino per la partita di per sé Ma così sfruttiamo l'occasione per spiegarvi invece come poter fare bene questo tipo di comp E quali brother ci vogliono per poterlo fare Ci apriamo anche lo star drop della prima vittoria di oggi Super raro 100 monete Perfetto Stavamo giusto parlando delle monete Adesso siamo 8100 quindi ci potremo togliere qualche sfizio Tra l'altro non so voi ragazzi ma noi nel nostro club abbiamo chiuso già E' il primo spongebob da qualche giorno come vedete siamo 482.985 Fateci sapere nei commenti se anche voi siete già riusciti a sbloccarla Se siete nella ricerca di un club potete andare all'interno del nostro discord Dove lo staff che gestisce i nostri due club vi aspetta nella sezione club Abbiamo sia good gamers che good gamers 2 Ma di questo appunto vi lascio discutere direttamente col nostro staff che gestisce club Perché non lo faccio direttamente io Come si fa una comp per poter far coppe abbastanza facilmente Sfruttando i potenziamenti Potete provarla I brawler che vi servono sono ovviamente tutti maxati a livello 3 E sono Bo, Berry e Kit Purtroppo non posso farvi vedere una partita giocata da noi Perché non ho tutti questi brawler con i potenziamenti maxati a livello 3 Anche perché nel caso dei curatori è fondamentale appunto averli maxati Perché il potenziamento dei curatori di livello 3 genera un cubo di energia ogni volta che si usa la super Bo con il suo gadget fa ricaricare più velocemente la super La super di Kit si carica automaticamente stando vicino dagli alleati E la super di Berry si carica curando In questo modo dovreste fare veramente tanti tanti cubi di energia Quando ho trovato per la prima volta la squadra che ha utilizzato questa strategia Era già qualche giorno fa Allo stato attuale Berry è stato leggermente nerfato perché all'interno della nube cura decisamente meno Non è una cosa che trovate all'interno delle notizie ma chi segue da vicino Brawl Stars lo sa perfettamente Quindi adesso vi faccio vedere la partita con la quale io ovviamente ho perso Questo è il trio come vedete c'è Bo, Berry e Kit Ovviamente si vanno a prendere un pochettino di potenziamenti direttamente dalle casse Tra l'altro arrivano già a 5 quindi decisamente una bellissima partenza Poi come potete vedere tutti si mettono contro la nube Qua state vedendo che Berry ha già usato una ulti, Kit ha già usato una ulti Insomma siamo già all'otto Bo ha messo il suo gadget E a questo punto tutti si stanno ricaricando la super Qua stanno cercando di chiuderli tra l'altro perché questo tipo di strategia ormai in alcuni casi è già abbastanza riconosciuta Ma come potete vedere comunque è veramente molto 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 difficile riuscire a counterarli Perché hanno una grandissima mobilità e una grandissima vita Nel frattempo tra l'altro sono già arrivati a 16 potenziamenti Arrivano a 18, adesso sono a 19 e vedrete a fine partita quanti cubi di energia sono uscite da fare Adesso sono a 21, direi che sono già ultra rotti rispetto a tutti gli altri Come vedete io tra l'altro sto passando lì di fianco a loro Non curante di questo tipo di strategia, loro continuano perché probabilmente in questa partita nessuno sapeva di questo tipo di strategia Difatti solo un team li ha pushati inizialmente Ora sono arrivati a 33 cubi di energia e vabbè praticamente one shotano qualsiasi giocatore Infatti adesso vedrete che noi siamo lì mid, belli belli Ma quando io li ho visti arrivare ho detto porca miseria questi hanno 40 cubi Come hanno fatto a fare 40 cubi? E da qui ho pensato di salvarmi la partita e farvi il video per farvi vedere come si fanno a fare tutti questi cubi di energia Guardate quanto sono grossi e quanto shotano E' veramente incredibile, sono arrivati a 45 e ovviamente si portano a casa la partita E questa è una comp che se avete tutte queste caratteristiche del potenziamento della cura maxata potete provare Boh tra l'altro può essere sostituito tendenzialmente con qualsiasi altro brawler che abbia ovviamente un raggio abbastanza lungo Che sono praticamente tutti quelli che hanno le polpette oppure quelli col clarinetto Però secondo me quelli con le polpette potrebbero essere un pochettino più efficaci nella modalità 3 vs 3 Fatemi sapere nei commenti se riuscirete a provare questo tipo di comp e se nel vostro caso sta funzionando per farvi fare delle coppe O vincere comunque delle partite abbastanza facilmente Prima di chiudere il video però andiamo ancora a vederci le offerte del Krusty Club Che da me si sono aggiornate Abbiamo una mega offerta tra l'altro molto grande quindi potrebbe essere una skin in super offerta di Spongebob Ma adesso andiamo a vederla e anche delle super offerte che potrebbero essere golose Allora qui abbiamo la super offerta di Energetic Kraken che ovviamente balziamo perché non è una skin esclusiva di Spongebob Che verranno poi tolte dal negozio nell'arco di un anno quindi è probabile che ce le faranno ancora shoppare in qualche modo all'interno del negozio Ma poi verranno completamente tolte quindi diventeranno esclusive Un'altra super offerta qui abbiamo i Power Meal che non ci interessano perché adesso che tra l'altro hanno anche fissato il bug della cassa gratuita Tutti i giorni stiamo ricevendo un Power Meal gratuito sicuramente prima dell'evento riusciremo a chiudere tutti quanti i nostri potenziamenti A me attualmente ne mancano ancora 6 e l'evento termina tra 9 giorni quindi tra 6 giorni avrò sicuramente tutto maxato E potrò ancora fare delle partite con tutto maxato per ancora 3 giorni Anche se per quello che è il mio gusto nel giocare a Brawl Stars una volta finite le missioni dei verdoni io non gioco con i potenziamenti Perché a me personalmente fare coppe in questo modo non mi sfizia tantissimo Preferisco giocare e imparare a utilizzare il Brawler per com'è e non vincere perché ho dei potenziamenti C'è ancora una nuova offerta che vediamo che cosa tira fuori sempre un Power Meal quindi non ci interessa Questa potrebbe essere molto interessante vediamo questa mega offerta niente da fare Byron da spiaggia mi è già capitato più volte io speravo fosse una skin del SpongeBob Però effettivamente c'era già attiva la nuova offerta qua con Barry Plankton che però non è scontata Devo dire che a 12.400 non è così incredibile come prezzo però io sono riuscito a prendere già una skin così che è quella di Tic Decisamente scontata l'ho pagato intorno ai 9.000 però dovrei andarmi a riprendere il video al massimo potete dargli un'occhiatina a voi Io aspetto ancora che ci siano delle mega offerte con le skin di SpongeBob di modo probabilmente a prenderne ancora due Ce ne mancano solo più due ovvero quella di Barry e quella di Buzz Possiamo notare come senza scioppare indicativamente nell'account di Gabriele che sicuramente non ha scioppato Però secondo me si è perso qualche verdone per strada siamo a 14.100 quindi potrebbe essere che si vada intorno ai 15 Però magari con qualche gemma che avevate da parte quei 1.000, 2.000, 3.000 verdone ve li potreste anche prendere Così sicuramente potete sbloccarvi due skin Ultimo consiglio che vi posso darvi ragazzi non abbiate tutta questa fretta perché mancano ancora 9 giorni Ci sono ancora 2-3-4 rotazioni quindi secondo me non fate come ha fatto Lorenzo che praticamente si è spiumato Già tutti i verdoni acquistando Power Meal ma tenetevi lì per qualcosa che vi piace veramente Soprattutto sulle skin di SpongeBob perché le altre comunque in qualche modo si riescono sempre a recuperare Io direi che per questo video è tutto se ti è piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su Se non lo fai ancora iscriviti Se volete potete recuperarvi la challenge che abbiamo iniziato io e Gabriele per cercare di arrivare a leggenda in ranked Vi lascio il video qua sotto Noi ci vediamo in un prossimo video e via